Allora, intanto vediamo le immagini che si riferiscono ai momenti immediatamente successivi, le stiamo guardando all'aggressione, vedete intervenuta la polizia con numerosi equipaggi, ma di questo chiedo conferma al nostro inviato, forse ad aver salvato la vita di questo ragazzo è stato l'intervento di due persone che passavano per caso, ma non erano persone diciamo semplici, dovrebbero essere i militari dell'arma, fuori servizio, è così Fabio? Cerchiamo conferma. Buon pomeriggio Milo, sì te lo confermiamo, si tratta di due carabinieri fuori dal servizio che passavano proprio da qui ieri pomeriggio che hanno aiutato questo ragazzo che purtroppo è stato chiaramente trovato a terra proprio su questo marciapiede, noi ci troviamo in via Panizza a Torino, vedete questa è una zona residenziale, ci sono soltanto case, non ci sono né telecamere né tanto meno dei negozi, non solo due carabinieri fuori dal servizio, anche un uomo che si occupava del rifacimento delle strade. Abbiamo sentito poco fa Milo il figlio di uno di due carabinieri che ci raccontava come il padre è riuscito a salvare quest'uomo, ha preso la cintura, ha preso poi anche un bastone per fermare la cintura e solo così ha fatto pressione e ha evitato il peggio. Quello che sappiamo è che sicuramente gli aggressori, i due uomini che ancora si stanno cercando e ancora caccia ai due aggressori, conoscevano bene la vittima, forse un apprezzamento sui social per la ragazza di uno dei due, ha scaturito tutto e questo una follia, sarebbe potuta finire peggio, probabilmente il ragazzo sarebbe morto se non fossero intervenuti i due carabinieri fuori dal servizio. Sappiamo anche che il ragazzo è stato portato in codice rosso alla vittima, in codice rosso al pronto soccorso, è intubato, la prognosi è riservata, le condizioni sono molto gravi, è stato fatto un intervento per evitare in estremis l'amputazione della gamba.